Premetto che sono un garantista e che fino a sentenza definitiva vale la presunzione di non colpevolezza. Questa cosa ovviamente vale per un cittadino italiano quale è Piero Bitetti, presidente del Consiglio Comunale di Taranto. Come voi tutti saprete quattro consiglieri della scorsa consigliatura, tra cui Bitetti, Bitetti rieletto insieme a Carmen Casula, sono stati rinviati a giudizio per una presunta truffa ai danni del Comune di Taranto e c'è la Costituzione da parte del Comune di Taranto, Costituzione di parte civile e una richiesta risarcitoria di 300 mila euro. Come sapete qui la vicenda riguarda dei presunti rimborsi gonfiati, voi sapete che se una persona è un consigliere comunale e è lavoratore, quindi subordinato nella fattispecie, l'azienda che perde le prestazioni del consigliere che viceversa sta svolgendo l'attività di consigliere comunale viene rimborsata dal Comune e nelle indagini è tutto da vedere, è tutto da verificare, ci sarà un processo in corso che verificherà se la cosa c'è stata o non c'è stata, chiariamolo, vi sarebbero stati o dei contratti inesistenti, contratti di lavoro o delle situazioni, dei rimborsi gonfiati, ma questo è tutto da vedere, lasciamo stare. Sta di fatto che la cosa che mi fa davvero pensare, una cosa assurda, che noi abbiamo, ferma restando la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, noi abbiamo un Presidente del Consiglio Comunale, Piero Bitetti, il quale è rinviato a giudizio per truffa al Comune di Taranto e per la qualcosa il Comune di Taranto chiede, per Bitetti e gli altri tre imputati, un risarcimento di 300 mila Euro. Allora io dico a Piero Bitetti, caro Piero, ferma restando questa presunzione di non colpevolezza, voglio augurarmi e augurarti che la vicenda si risolva brillantemente e che tu possa dimostrare in pieno la tua assoluta limpidezza in questa vicenda, innesca assolto, ma per opportunità, per una questione di opportunità, tu dovresti dimetterti da Presidente del Consiglio Comunale, perché non è una bella immagine che vi sia un Presidente del Consiglio Comunale, parliamo di una scelta etica, di una questione di opportunità, non di legittimità, non è bello avere la figura di un Presidente del Consiglio Comunale rinviato a giudizio per truffa proprio nei confronti del Comune di Taranto, il quale Comune di Taranto chiede per questa presunta truffa un risarcimento di 300 mila Euro riguardante Bitetti e gli altri imputati. E allora, caro Piero, fai un passo indietro, dimettiti, dimettiti, chiarisci la tua posizione e poi torna a fare politica, ma soprattutto a ricoprire un ruolo di altissimo prestigio, quale è quello della Presidenza del Consiglio, una volta che hai chiarito completamente la tua vicenda. Ecco, questo ti chiedo, proprio come immagine, perché non è bello che poi si vada fuori Taranto e si senta dire, ma voi avete un Presidente del Consiglio Comunale rinviato a giudizio per truffa proprio al Comune di Taranto e per la qualcosa il Comune si è costituito parte civile. Ripeto, nessuna colpevolizzazione, mi auguro che tu ne esca assoltissimo, passatemi questa espressione così colorita, ma viva Dio, non possiamo vivere questa situazione, è imbarazzante caro Piero, è imbarazzante per te ed è imbarazzante anche per l'amministrazione comunale, come è stato anche imbarazzante a mio avviso per la maggioranza consigliare del Comune di Taranto partorire la scelta di un Presidente del Consiglio come Bitetti che viveva e vive questa situazione che certamente non è piacevole. Parliamo di una ragione di opportunità, non di legittimità, come legittimità Bitetti può fare tranquillamente il Presidente del Consiglio, ma esistono ragioni di opportunità. Rifletti Piero Bitetti e rifletti Sindaco Melucci. Mi rivolgo ora al legislatore, ma scusate, se un professore viene accusato di aver preso mazzette o viene accusato di molestie sessuali, viene sospesso dal servizio, perché caro legislatore un consigliere comunale che vive una situazione giudiziaria come Bitetti può rimanere in carica e può svolgere addirittura il ruolo di Presidente del Consiglio? È una domanda che faccio al legislatore, non è certo colpa di Bitetti, Bitetti sta operando nella legalità, può farlo legittimamente, ma è una domanda che io mi pongo e pongo al legislatore italiano. Forse il Parlamento dovrebbe anche pensare a queste contraddizioni.